Crisi del commercio. C'è. Negarlo è da ipocriti e la provincia di Sondrio non è assolutamente esente da un fenomeno nazionale che risparmia pochi sparuti settori. Le previsioni UE che lasciano intravedere per il 2019 una crescita del PIL italiano ad appena 1 più 0,1% non delineano poi un futuro particolarmente radioso per la nostra nazione. Aggiungiamo inoltre una crescita esponenziale dello shopping online per il quale valtelinesi e valchiavennaschi dimostrano tutto il proprio affetto ponendo la nostra provincia in posizione di capolista dal 2017 secondo i dati del Sole 24 ore. Insomma c'è poco da stare allegri. Per commercianti ed acquirenti le domande e i dubbi sono tanti. Qualche risposta ha provato a dare il convegno dal titolo il commercio che fa comunità in montagna organizzato per questo pomeriggio presso la camera di commercio di Sondrio. Una lente di ingrandimento puntata sulla realtà commerciale dei territori montani e dei piccoli comuni nei quali forte è il valore sociale del commercio a differenza di realtà tipiche di ambienti più urbani e da cui emerge un imperativo. Favorire il commercio è d'obbligo perché ogni volta che un'attività commerciale chiude si perde una tessera del mosaico nel quale turismo, territorio, ristorazione rappresentano altri complementari tasselli. Il commercio dà una mano al turismo perché tutto quanto riguarda commercio che voglio dire attività ricettive oltre alla bottega tipica piuttosto che storica servono veramente a dare la possibilità anche ad un turismo, ad un turismo di prossimità di avere uno sviluppo legato come dicevamo al settore del commercio. Fondamentale è il riconoscimento del patrimonio offerto dalle attività commerciali per il territorio, la maturazione di una consapevolezza da parte del cittadino stesso di quanto siano importanti le proprie scelte di acquisto. Il commercio serve veramente per coalizzare, per catalizzare una funzione veramente sociale. Noi a volte diciamo che quando una vetrina si chiude è un pezzo di città che muore. Un rapporto bionivoco quello tra cliente ed esercente per il quale i negozianti stessi vengono chiamati a mantenere standard di qualità elevata e sensibilità alle esigenze della clientela. Passa un treno lo dobbiamo prendere tutti insieme, per far questo il territorio deve essere compatto, non devono esserci voci fuori dal coro, ovvero sia un confronto, ci deve essere, ci mancherebbe altro ma che sia costruttivo, non sterile. Di prospettive radiose parla inoltre l'assessore regionale Sertori in visione di, per ora auspicate, Olimpiadi Invernali 2026, distanza tra Valtellina e Valchiavenna, oltre alle risorse che potrebbero giungere alla provincia grazie alla nuova legge sull'idroelettrico. Nodi da sciogliere ne rimangono e come. Tra questi il rapporto tra grande e piccola distribuzione, flessibilità degli stessi commercianti, oltre a problematiche ancora più annose come quella dei trasporti. Dall'incontro trapela comunque un invito ad un cambiamento di ottiche. Io penso che invece di dare tanta attenzione anche delle politiche pubbliche ai fattori di svantaggio della montagna, che sicuramente ci sono penalizzazioni importanti di accessibilità climatica e tutto quello che vuole, bisognerebbe puntare di più a mettere in evidenza i valori, i valori distintivi che ha la montagna e quindi essenzialmente il suo patrimonio, patrimonio che è fatto di tre componenti fondamentali, i prodotti del territorio, il patrimonio culturale e il capitale naturale di cui la montagna è particolarmente ricca.